e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui per farvi vedere questo film in dvd di una pallotta spuntata il primo capitolo di questa saga questa immagine di copertina molto carine andiamo a vedere come è il laterale eccola qua questo è il retro tutto bianco una pallotta spuntata qualcuno immagini film la trama photo pictures door be digital film per tutti e questo è dietro l'ipodi andiamo a vedere come è fatto l'interno tutto bianco con un semplice dischetto con il titolo in inglese niente di eccezionale e niente mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli